la città della scienza piccolo prima tecnico l'ingresso principale solo carta di credito pagamento cash invece bisogna andare da un'altra parte ricordarsi per chi viene qua e faremo una cosa collettiva con l'oceno grafico sia delle scienze e l'altro che era non mi ricordo più è quello tutto particolare che vedi tutto corretta 60 ok qui si fa sulle barche roba simili e qua nelle palle ok bene entrato al museo delle scienze poi vediamo se riusciremo a vedere lo spettacolo delfini in base agli orari e prima con film da vedere nell'emisferico soprattutto 360 gradi un film di 50 minuti nello spazio in castello tutto vediamo ce lo facciamo o questa sarà la nostra giornata ok questo il pesce mercurio ce l'ha lei cadmio ce l'ha lei plomo ah sì piombo cromo ecco interessante ok gruppo sfocato allora qua abbiamo una carta per il linguaggio non c'è italiano spagnolo a vero l'inglese forse ti piace questo questo va bene poi formazione su marte un giorno su marte 40 minuti ci sono Le temperature basi avranno, come conseguenza, una alta umidità di umidità. Possiamo poter contemplare alcuni freddi di acqua nel cielo e alcuni occhi sul grado. I nuovi comandi indicano che questo occhio di acqua è causato di carbon dioxide precipitato sul grado. Dovrebbe essere i suoni di Marte qua. In varie stazioni e varie date tutti i suoni che Marte ci ha dato. Eccoci qua all'ocenografico, vediamo un po' le cose marine e sottomarine. Siamo nel tunnel con l'acqua attorno. Ciao ciao! Che bello! Questa, sarà bella. Ah no, due pupine. Sì! 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 Gioca Prende con le zampette 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 . Grazie a tutti. Trai qualcosa da dire? Non parli più. Sistema di purificazione. Filtri. Bene, adesso terminiamo di vedere un bel film in 3D. Aspettare un pochettino. Vedremo il cielo. Vedremo lo spazio. Fin sullo spazio. Vedremo tutti in 3D. Buona giornatina tranquilla. Un po' di passi mi ha fatto lo stesso. Ecco, siamo usciti. Abbiamo visto il nostro film. Questa è la zona esterna. E adesso ci avviamo verso casa. Andiamo un attimo a Carrefour a prendere qualcosa.